Un saluto a tutti. Previsioni meteosintetiche per lunedì 15 gennaio 2024 e breve tendenza. Una colata gelida interessa il comparto centro-orientale europeo, fino sul nord dei Balcani, ma non ce la farà ad entrare in area mediterranea a causa della pressione zonale. Infatti tese correnti occidentali investiranno la nostra penisola e trasporteranno masse di aria molto umida e più mite alla base di diffusi addensamenti sul comparto tirrenico ed in area meridionale, accompagnati da piogge sparse. Le precipitazioni potrebbero risultare a tratti intense con temporali sul litorale campano. Ancora fitte nebbie nelle vallate del nord che persisteranno a tratti per tutta la giornata. Deboli nevicate sulla cresta alpina di confine. Temperature in generale aumento. Ventilazione tesa dai quadranti occidentali con locali rinforzi. Breve tendenza per i giorni successivi. Correnti occidentali alimentano una serie di impulsi perturbati, intervallati da brevi pause, una delle quali interesserà la penisola martedì, salvo residui piovaschi al sud. Nuovo peggioramento mercoledì che investirà il nord ed il centro nord lato tirrenico. Temperature stazionari e eventi tesi tra sud e sud ovest. Maggiori dettagli verranno forniti nei prossimi aggiornamenti. Se vuoi ricevere le previsioni aggiornate iscriviti e attiva la campanella.